Adesso sembra che Salvini sia proprio deciso, o si abbassano le tasse di almeno 10 miliardi oppure potrebbe lasciare il governo. Ed io mi sbilancio immediatamente, sono perfettamente d'accordo con lui, anzi personalmente per ritenerla una vera manovra fiscale il taglio dovrebbe essere di almeno 30 miliardi. Ovviamente non si dovrebbe abbassare la spesa contemporaneamente dello stesso importo, ma tagliare le tasse di 30 miliardi per il bilancio statale, attenzione, non significa automaticamente incassare 30 miliardi di meno, perché l'alleggerimento fiscale ovviamente, senza alcun dubbio, migliora la situazione economica e quindi una parte perlomeno di quei 30 miliardi incassati di meno inizialmente potrebbero successivamente rientrare nelle casse dello Stato. Tuttavia, come ho già detto, anche se la spesa nel suo complesso non dovrebbe venire variata come importo, ma è senza dubbio necessario però che venga rimodulata, perché anche la spesa deve seguire criteri di efficienza, quindi deve passare da spesa improduttiva a spesa produttiva. E riuscire a rendere più produttiva la spesa sarebbe già un grandissimo risultato, perché stiamo parlando di cifre enormi, elevatissime. Lo Stato italiano infatti spende all'incirca 600 miliardi l'anno, al di là dei titoli del debito pubblico in scadenza. Ma torniamo alle tasse, molti infatti valutano solo l'effetto contabile di una simile operazione, cioè del taglio delle tasse. In pratica guardano esclusivamente al fatto che i redditi reali percepiti dai cittadini aumentano, ma sottovalutano quello che invece è un aspetto che a mio avviso è assolutamente importante, estremamente importante, cioè l'aspetto psicologico. Perché le persone infatti che vedono aumentare il proprio reddito guardano con maggior fiducia al futuro e questo è assolutamente positivo, cioè aumenta questo fatto, aumenta un aspetto che da anni invece in Italia è in netto declino, l'intraprendenza. L'intraprendenza è un aspetto di importanza fondamentale, ripeto, cioè perché negli anni 50 ad esempio sono nate decine, centinaia, migliaia di imprese delle quali poi molte si sono imposte in tutto il mondo? Certo sono nate per l'intraprendenza di persone certamente straordinarie, ma questa intraprendenza derivava dalla fiducia che il domani sarebbe certamente risultato migliore dell'oggi. Ed allora la proposta della flat tax, della quale si parla, ossia una flat tax sui redditi familiari inferiori ai 50.000 euro, è assolutamente insufficiente. Lo so perfettamente che quello che vi sto per dire non è estremamente popolare. È chiaro che se si tagliano le tasse, si tagliano a coloro che queste tasse le pagano ed essenzialmente pagano maggiori imposte e chi ha maggiori redditi, maggiori guadagni, questo però è necessario, è assolutamente necessario perché abbiamo bisogno di una maggiore intraprendenza e quindi occorre dare opportunità a chi vuole investire, a chi ha la possibilità di investire. Quindi lasciare più soldi nelle tasche di chi già guadagna tanto è un bene per l'intera collettività, non solo per quelle persone. Accanirsi su chi ha capitali diventa solo un incentivo a questi ultimi per portarli all'estero. attenzione però, attenzione, lo devo scandire. In questo momento nel mondo assistiamo ad uno scandalo che non è più sopportabile. L'evasione, lo so, purtroppo occorrerebbe più precisamente parlare di elusione fiscale, da parte delle grandi multinazionali, in particolare quelle legate al mondo internet. E allora lo dico senza mezzi termini. È uno scandalo che Google, Facebook, Amazon e così via, praticamente non pagano tasse nei paesi nei quali fanno affari. Questo è uno scandalo al quale occorre dire basta, basta una volta per sempre. Cara Amazon, solo per fare un nome, se vendi in Italia, le tasse le devi pagare in Italia, come fa un piccolo negozietto di provincia. Capisco che ci saranno trattati internazionali che permettono ad Amazon di fatturare tutto in paesi che non gli fanno pagare tasse e tutto questo sarà legale. È legale adesso, ma uno Stato è tale proprio perché ha una sua sovranità e si chiama così sovranità, proprio perché deve essere sopra a tutto, sopra a qualsiasi trattato. E allora caro Amazon, caro Google, caro Facebook e compagnia cantante, non volete pagare le tasse in Italia perché le considerate troppo alte. Benissimo, andatevene pure dal nostro paese, nascerà senz'altro un'altra azienda che occuperà la vostra posizione e che sarà disposta a pagare le tasse nel nostro paese. L'ultimissima cosa, ovviamente dopo l'abbassamento delle tasse, una legge durissima per chi evade. Beh, questo lo ritenevo assolutamente scontato.